Sarebbe riduttivo definirla Sarebbe una puntata pasquale perché l'argomento che tratteremo tra poco è un argomento che va avanti da 2000 anni o quantomeno da poco più di 700 anni, cioè dal 1353 quando vennero fuori le prime notizie su un oggetto allora non tanto misterioso ma che quell'alone di mistero ha conservato e lo conserva fino ad oggi. Stiamo parlando della sindone di Torino, la sacra sindone come la chiamano coloro che credono a quello che rappresenta. E' la fortuna oggi di avere con noi uno degli studiosi più importanti, un sindonologo di fama internazionale come il professor Bruno Barberis. Benvenuto professore. La ringrazio, sono molto felice di essere in Abruzzo, non per la prima volta ma già per la sesta volta perché sono sei anni che ho il piacere di venire a parlare di sindone qui nella vostra bella regione. E di sindone si può parlare sempre, non ci si stanca mai perché ci sono sempre nuove notizie ma soprattutto c'è questo alone di mistero che dicevo prima, a cui mi riferivo prima, che resta ormai da quel 1353 anno in cui si parlò per la prima volta di sindone. Sì, perlomeno in Europa, ecco certo. Il fatto che nel 2013 ci possano essere ancora molte domande senza risposta e soprattutto dal punto di vista della ricerca scientifica è qualcosa di molto affascinante, molto interessante. Quindi questo, penso che sia questo uno dei motivi principali per i quali la sindone è veramente conosciuta in tutto il mondo e anche le più recenti ostensioni l'hanno dimostrato visto che milioni di persone sono arrivate a Torino per vedere la sindone. Allora della sindone i Vangeli ne parlano due volte e non lo stesso Vangelo. Nel primo caso quando Gesù fu deposto dalla croce fu avvolto e lì dovevano fare in fretta perché incombeva il tramonto del sole, l'inizio dello Shabbat, del sabato e dunque non si poteva fare più nulla e Gesù venne deposto dalla croce avvolto in questo lenzuolo e deposto nel sepolcro. E poi invece una seconda volta quando, mi sembra sia questo il Vangelo di Giovanni, adesso vado a memoria, quando vennero ritrovati proprio questi panni piegati all'interno del sepolcro da parte degli apostoli Pietro, Giovanni e le donne che erano andati lì a vedere perché il corpo di Gesù non era più nel sepolcro. Ecco, bastano questi due elementi per far risalire la sindone a quel periodo? Beh ovviamente no perché i Vangeli ci parlano di una sindone. È chiaro che questo non ci permette di dimostrare con certezza che si tratta della sindone che è conservata a Torino. Sta di fatto però che attualmente non esistono nel mondo altri teli che posseggono caratteristiche neanche lontanamente paragonabili con quelle che abbiamo a Torino. Stiamo vedendo, questa non è la sindone originale, questa è la copia che c'è adesso a Giulia Nova. Dicevo, dobbiamo tenere presente che comunque la descrizione evangelica non solo dei ritrovamenti della sindone a cui lei faceva riferimento ma anche dell'intera passione di Gesù coincidono in un modo veramente incredibilmente perfetto con i segni che vediamo sulla sindone di Torino. E questo è una prova sicuramente di alto valore che può anche direttura essere quantificata utilizzando la statistica, il calcolo delle probabilità per andare alla ricerca di quali sono le probabilità che in un qualunque crocifisso della storia, uno dei tanti, forse dei milioni di crocifissi della storia, possa aver avuto su di sé in contemporanea tutte queste caratteristiche che sono presenti sia sulla sindone di Torino sia nella descrizione evangelica della passione, morte e sepoltura di Gesù. E si riesce a dimostrare che le probabilità che possono essere accadute su un unico crocifisso sono prossime a zero, cioè uno diviso qualche decina di miliardi il che significa che se nella storia dell'umanità ci fossero stati decine di miliardi di crocifissi, uno solo di loro avrebbe potuto avere su di sé tutte queste caratteristiche in contemporanea. È evidente che per quanto crocifissi ci siano stati, questa cifra è ovviamente iperbolica e quindi ci permette di concludere che è altissima la probabilità che lo sia veramente il lenzuolo funebre di Gesù. Allora, andiamo con ordine. Sulla sindone c'è, adesso uso un termine improprio, impressa l'immagine di un uomo che sicuramente è stato crocifisso, sicuramente è stato flagellato, sicuramente è stato coronato di spine, così come riporta poi l'iconografia e il racconto tradizionale per quello che riguarda la passione e morte di Gesù Cristo, non i Vangeli, perché non tutti i Vangeli poi riportano alcune descrizioni, alcuni particolari. Come è stata impressa questa immagine? La scienza cosa dice? La scienza dice che non lo sa ancora, sostanzialmente, nel senso che di ipotesi ne sono già state fatte molte, soprattutto negli ultimi cento anni circa, che è l'epoca in cui la sindone è stata studiata in modo moderno, in modo scientifico, di esperimenti anche, ne sono stati fatti diversi, ma nessuno di questi ha mai dato un risultato veramente significativo, cioè un'immagine veramente simile a quella che vediamo sulla sindone. E ormai sappiamo, io posso fare tutte le esperimenti che voglio, tutte le ipotesi che voglio, ma finché non riesco a dimostrare sperimentalmente di essere riuscito a ottenere un'immagine identica a quella che vedo sulla sindone, non posso dire di aver capito come si è formata l'impronta. E questo rimane ancora un mistero. Faccio una piccola osservazione che è una delle tante, ma forse è una delle più significative. Mentre il sangue presente sulla sindone, sappiamo che è realmente sangue perché è stato analizzato e studiato, è di gruppo AB, ha attraversato il tessuto e quindi è visibile anche sul retro del telo, l'impronta no, l'impronta è esclusivamente superficiale ed è penetrata nel telo per uno spessore di circa un micrometro, cioè un millesimo di millimetro. Spessore che non si riesce a riprodurre con nessuna tecnica pittorica o di altro tipo umana, ad eccezione dell'uso di una sorgente di luce laser, che però deve essere fatta a interagire con il telo per qualche milionesimo di secondo. È evidente che non può essere stata realizzata con tale tecnica, però è significativo e interessante osservare che è l'unica tecnica che fino ad oggi ha permesso di colorare un telo, anche se su superfici piccolissime, con le caratteristiche veramente simili a quelle del tessuto della sindone. Quando a cavallo degli anni 80 e 90 ci fu questa prova al carbonio e venne fuori la storia che questo telo era di provenienza medioevale, avevate perso tutte le speranze? Uno scienziato non perde le speranze se vi sono dei risultati seri e attendibili, qualunque essi siano, perché uno scienziato desidera scoprire la verità, non seguire le proprie opinioni personali, i propri preconcetti. Guai se uno scienziato lavorasse in base ai propri preconcetti. Il problema della datazione del telo è un problema molto antico, nel senso che già lo scopritore del metro del C14 negli anni 50 aveva proposto una datazione, allora la cosa non era fattibile perché con le tecniche di allora bisognava bruciare circa mezzo metro quadro di tessuto. Oggi la quantità è notevolmente ridotta e nel 1988, come ricordava lei, è stato datato il telo dando una età medievale. Ma questo è un risultato che già al momento della datazione aveva suscitato molte perplessità sulla sua attendibilità negli studiosi. Era un fatto molto semplice che tutti i tessuti, non solo la sindone, sono estremamente soggetti a inquinamenti esterni, sia di tipo chimico, sia di tipo biologico. Esperimenti fatti su altri tessuti che non sono la sindone, tele di mummie egizie o altri tessuti antichi, hanno dimostrato come, ad esempio, la presenza di microorganismi può cambiare il risultato della datazione anche di molti secoli. E così anche la permanenza di un telo in un ambiente molto ricco di monossido di carbonio o di anidride carbonica, come ad esempio un ambiente in cui sta avvenendo una combustione, un incendio. Anche in quel caso si ha una variazione della quantità di carbonio 14 presente nel telo di notevole entità. Questo dimostra il fatto che per poter datare con certezza un tessuto o siamo in grado di pulirlo alla perfezione e quindi di datare solo il carbonio del tessuto, del lino con il quale è stato realizzato il tessuto, oppure dobbiamo conoscere la quantità di impurità, di inquinamento che esso ha subito e quindi costruirci un fattore di correzione. Ecco, questo è quasi impossibile perché non è possibile conoscere con precisione la storia di un qualunque oggetto antico. Quindi la datazione con il radiocarbonio ha dei grossi limiti che non stanno nel metodo ma stanno nelle caratteristiche del campione che dobbiamo datare. Si tratta quindi di rifarla non appena avremo una mappatura di tipo chimico-fisico di tutto il telo che ci permetta di capire quali sono le zone in cui è bene andare a fare un prelievo e altre in cui invece ci possono essere degli inquinamenti troppo consistenti ed eventualmente quali fattori di correzione da apportare. In quel momento sarà utile e anzi doveroso farne una nuova datazione. Fino a quel momento è inutile ripetere l'esperimento. Forse a mettere un po' la pulce nell'orecchio o a far nascere dei dubbi sulla provenienza, sull'origine della Sindone è anche un po' il periodo in cui è venuta fuori, cioè nel 1300 siamo nell'impieno Medioevo epoca in cui il mercato delle reliquie era apertissimo. Si trovavano spine della corona di Gesù dappertutto oppure le reliquie della croce che venivano vendute praticamente dovunque. Ecco, forse è proprio il periodo che trae un po' in inganno. Perché proprio nel 1300, cioè perché 1300 anni dopo l'origine della Sindone? Perché non è venuta fuori prima? Perché magari non è stata conservata dagli apostoli o tramandata? Mi piacerebbe avere una risposta sicura da darle. La storia ha dei grossi limiti, non solo nei riguardi della Sindone ma nei riguardi della maggior parte degli oggetti antichi. Ha perfettamente ragione a identificare quel periodo come un periodo di commercio, di reliquie consistente. Di spine ne abbiamo tante, ce n'è anche una non molto lontano da qua, a Vasto. Ma non è l'unica che c'è in Italia e altre ce ne sono in altri paesi europei. Però non dimentichiamo un fatto, che la Sindone è una reliquia veramente anomala. Cioè non è una reliquia facilmente riproducibile come una spina o un pezzetto di un chiodo o un pezzetto di legno spacciato per legno della croce. La Sindone non ha queste caratteristiche. Innanzitutto non è un pezzo di tessuto qualunque, ma è un tessuto intero sul quale si vede un'impronta che nel 2013 non siamo ancora in grado di riprodurre. E questo ci fa ovviamente riflettere sul fatto che sia una reliquia veramente anomala. E il fatto che il suo arrivo in Europa nel XIV secolo non abbia suscitato, soprattutto nell'ambiente ecclesiastico dell'epoca, non solo nessun entusiasmo, ma anche forti critiche, proprio per la sua caratteristica di anomalia. E quindi i primi vescovi che ebbero contatto con la Sindone cercarono di evitare che venisse esposta al pubblico, ritenendola una reliquia che non aveva un'utilità per lo sviluppo della fede dei credenti, proprio per le sue caratteristiche totalmente anomale. Questo ci fa ritenere che non possa essere stata fatta commercio nel senso tradizionale del commercio di reliquie. Non è che non abbiamo notizie relative al periodo più antico della storia della Sindone. Certo che non sono numerose e sicure come quelle del periodo successivo, però indizi ne abbiamo. E vi sono degli indizi che fanno ritenere possibile la presenza della Sindone a Costantinopoli durante la famosa presa di Costantinopoli della Quarta Crociata 1204, perché abbiamo delle descrizioni sia letterarie che in immagini di persone che furono a Costantinopoli in quell'epoca e anche nei decenni precedenti, che ci fanno ritenere molto plausibile la sua presenza lì. E poi quindi il suo trasporto in Europa da parte di qualche cavaliere crociato, chissà quando, chissà come. Alcuni fanno l'ipotesi che siano stati i Templari a trasferirla dal Medio Oriente in Europa, ma anche lì non abbiamo notizie certe e abbiamo solo degli indizi che sono molto labili. La storia ci può dire abbastanza poco, ma la cosa importante è che la Sindone ce l'abbiamo. È lì, è qua. La possiamo studiare oggi con le conoscenze di oggi, fra 50-100 anni con quello che sapremo fare allora e sarà molto di più di quello che sappiamo fare oggi. Ed è quella la linea sulla quale potremo imparare di più, non solo sulle sue caratteristiche, ma forse addirittura sulla sua storia. Ce l'abbiamo e abbiamo rischiato di perderla più volte, no? È un miracolo a volte, se possiamo dire, che la Sindone sia ancora qui, perché quelle bruciature che si sono viste sul telo, quelle sono frutto di un incendio che praticamente aveva devastato il Duomo di Torino e che invece poi c'è stato anche un incendio precedente, quale la Sindone era stata colpita, ebbè è arrivata integra, possiamo dire, perlomeno nella figura dell'uomo che era figurato lì ai nostri giorni. È un miracolo? Beh, adesso io sono uno scienziato e mi sembra difficile usare la parola miracolo per un fatto del genere. Però, effettivamente, dobbiamo ritenere che l'incendio di Chambery, che è la danneggiata, e i danni che i telespettatori li stanno vedendo in modo chiaro ed evidente, sono danni che hanno danneggiato l'immagine in modo molto marginale. Sì, perché lì la Sindone era ripiegata e il fuoco attaccò solo gli angoli, no? E, diciamo, solamente un lato di questo tessuto ripiegato e delle gocce di metallo fuso la perforarono da cima a fondo, ma in una zona, sì, ha cancellato l'impronta delle braccia e in parte delle spalle, ma non ha danneggiato parti considerevoli. L'incendio di Torino, che lei ha ricordato, del 1997, ha distrutto totalmente la cappella, ma per fortuna non ha danneggiato neanche minimamente la Sindone perché era stata tolta dalla cappella qualche anno prima per consentire quei lavori di restauro che probabilmente sono la causa dell'incendio. Poi, chissà quali altre avventure ha vissuto nel passato che non conosciamo e non conosceremo mai. Sta di fatto che effettivamente un tessuto di tale antichità ci è giunto in condizioni veramente ottime e quindi abbiamo tutta la possibilità di poterlo studiare veramente a fondo. La Sindone e i Savoia. Bella storia anche questa. Una bella storia. I Savoia l'hanno acquistata o ricevuta in dono nel 1453 e l'hanno posseduta fino al 1993 quando Umberto II nel suo testamento la lasciò alla Santa Sede. Adesso è del Vaticano. Adesso è del Vaticano, certo. I Savoia però, penso che abbiano fatto un ottimo lavoro di conservazione. Erano molto orgogliosi, molto fieri di possedere la Sindone. Ritenevano il segno di un particolare dono divino alla dinastia. Ma grazie a questo loro orgoglio l'hanno conservata come meglio non potevano e dobbiamo dire grazie anche a loro se è giunta a noi in ottime condizioni. Lei ha prima citato la reliquia che si trova a pochi chilometri da qui, ancora meno, minor numero di chilometri da qui. C'è un altro volto del Cristo. A manoppello c'è il telo del volto santo. Lo ha visto mai lei? Sì, l'ho visto. È un volto di notevole interesse che sicuramente dal punto di vista storico ha un enorme interesse. L'unico problema è che per poter capire la sua natura e le caratteristiche di questa immagine bisognerebbe poterlo studiare in modo dettagliato e quindi bisognerebbe aprire la teca, poter fare dei microprelievi. Oggi ormai si possono fare microprelievi che sono tutt'altro che distruttivi, effettuare delle analisi di tipo chimico-fisico e anche biologico e finora non è mai stata data l'opportunità di farlo. Come mai? Evidentemente la proprietà non lo vuole fare. Io questo motivo non lo so. Però per poter fare delle affermazioni certe, l'unico modo è poterlo studiare. La sindone è stata studiata in moltissime occasioni, anzi qualcuno la definisce l'oggetto più studiato al mondo. Il giorno in cui sarà possibile farlo anche sul volto di Manopello potremo avere delle informazioni certe, precise, scientifiche che tuttora mancano. Per sapere se quello è il telo della Veronica che fu posto sul volto di Gesù mentre saliva il Calvario. La tradizione dice questo? Sì, anche se è solo una tradizione. Sappiamo che i Vangeli non citano assolutamente questo fatto. Sappiamo che il nome Veronica discende dalla composizione di vera icona e sappiamo che le tradizioni, chiamiamo le tradizioni, chiamiamo le leggende, sono due in parallelo. In occidente quella della Veronica, in oriente quella del Mandiglion che probabilmente fanno riferimento a uno stesso oggetto che sappiamo essere stato conservato nella città di Edessa per qualche secolo, poi trasferito a Costantinopoli verso la metà del X secolo e a questo punto scomparire. Mentre a Costantinopoli sembra apparire la sindone e non solo una sindone qualunque ma quella di Torino. Ecco perché alcuni studiosi hanno fatto l'ipotesi che però è una semplice ipotesi che questo velo cosiddetto mandiglio della Veronica che dir si voglia possa essere stata la sindone ripiegata in tante parti in modo da mostrare il solo volto e nascondere il corpo che era segno di morte mentre il volto era più facilmente spendibile come oggetto di origini, segno, immagini di origini miracolose e che poi giunto a Costantinopoli viene aperto e mostrato nella sua interezza. È ovviamente solo un'ipotesi ma tale da poter giustificare la scomparsa del primo e la comparsa del secondo. I due volti, quello del crocifisso della sindone e quello del dolente, definiamolo così, del volto di manopello sono simili? A me sembrano molto poco simili tenendo conto ad esempio che nel volto di manopello abbiamo gli occhi aperti, abbiamo la bocca aperta tanto che mostra anche un dente il confronto tra i due volti non è mai stato fatto da un punto di vista informatico cioè da un punto di vista scientifico è chiaro che all'occhio ci sembrano simili ma qualunque volto barbuto può sembrare simile ad un altro volto con quelle caratteristiche per cui ritengo che una risposta sicura a questa domanda si possa fare solo dopo esami scientifici seri. Siamo quasi in conclusione sabato prossimo, il 30 sabato santo ci sarà l'ostensione televisiva della sindone perché l'esposizione si chiama ostensione questo risaputo è solo televisivo perché nel 2010 c'è stata invece l'ostensione vera e propria ai fedeli li ricordo che c'è stata la possibilità per la prima volta delle riprese televisive per tutte le televisioni non solo per la televisione di Stato beh, questa ostensione del 30 cosa ha di particolare? Siamo solo a tre anni dall'ostensione ufficiale del 2010 è passato poco tempo la sindone ha bisogno di essere conservata il più possibile al buio certo durante l'ostensione deve essere illuminata altrimenti nessuno la potrebbe vedere ma un lungo periodo di un'ostensione che deve superare ormai nei tempi moderni almeno un mese deve durare almeno un mese se non più richiede anche la costruzione di una complessa macchina organizzativa perché ormai non possiamo più pensare di invitare le pellegrine a Torino senza che ci sia un sistema di prenotazioni, di accoglienza che richiede sicuramente è un impegno economico piuttosto consistente è una macchina organizzativa complessa per cui in questo anno della fede voluto da Papa Benedetto già l'anno scorso il Papa stesso ovviamente in pieno accordo con l'Arcivescovo di Torino ha ritenuto opportuno dare comunque un segno significativo utilizzando uno strumento come quello dell'impronta della sindone che io direi un eccezionale strumento che si adatta alla cosiddetta nuova evangelizzazione ecco allora l'idea di riprendere uno stessore televisivo la seconda nella storia la prima risale esattamente a 40 anni fa al 24 novembre del 1973 in modo tale da poter mostrare a tutto il mondo l'immagine della sindone senza dover costruire quella macchina complessa a cui facevo riferimento prima la conferenza che nel 73 era in bianco e nero adesso è a colori nel 73 io l'ho rivista su di un DVD quell'ostensione e mi sembrava non di 40 anni fa ma di 400 anni fa tanto lontana e diversa dal modo che abbiamo oggi di comunicare ma è segno anche di quei tempi l'ostensione del sabato santo che sta per arrivare sarà un'ostensione in mondo visione anche in streaming che incomincerà su Rai 1 verso le 17.10 e durerà circa un'ora e mezza sarà preceduta al mattino del sabato dalle 11 alle 12 da una puntata speciale di la sua immagine che lancerà l'ostensione e se ne parlerà anche del pomeriggio del venerdì santo in occasione delle trasmissioni relative alla passione di Gesù sarà celebrata la messa mi sembra no, perché il sabato santo non si celebra la messa ci sarà la celebrazione della veglia pasquale che nel Duomo di Torino seguirà l'ostensione ci sarà una celebrazione della parola un momento di preghiera e poi un momento di venerazione della sindone fatta da un ristretto numero di persone che saranno soprattutto malati e disabili che saranno nel Duomo di Torino ma che saranno insieme alle milioni e milioni di persone che la vedranno in tutto il mondo io le faccio l'ultima domanda lei non mi risponderà chi è l'uomo della sindone? io voglio risponderle nel senso che non le posso dare la certezza al 100% che si tratti di Gesù di Nazareth però le posso dire che se mettiamo insieme tutti i dati che abbiamo a disposizione se li valutiamo correttamente come dicevo all'inizio utilizzando la probabilità che tutte queste caratteristiche possono essere presenti in un solo crocifisso le posso dire che le probabilità che sia proprio quel personaggio storico che corrisponde al nome di Gesù di Nazareth sono non solo alte ma altissime grazie professore grazie a voi per averci seguito grazie a voi grazie a voi